Musica Buongiorno, benvenuti al nostro Tg del mattino. Vento fortissimo e pioggia su gran parte del Molise. Questa notte tanti, tantissimi gli interventi da parte dei vigili del fuoco, almeno un centinaio in provincia di Campobasso a causa del forte vento, alberi sradicati, rami ma anche cartelloni pubblicitari e cavi della luce che sono finiti sulla carreggiata ostruendo parzialmente o del tutto diverse strade. Interventi come dicevamo in provincia di Campobasso a Matrice, Montagano, Montemitro, a Larino, a Bonefro ma anche a Campobasso Centro. Interventi anche per delle tegole che sono cadute dai tetti. Il vento fortissimo che ha raggiunto anche i 100 chilometri orari. C'era l'allerta da parte della protezione civile ma ci sono stati disagi anche su alcune statali. Strade la statale 17, 87 e 647 tra Boiano e Sepino e nella zona di Castro Pignano. Interventi anche da parte dei tecnici dell'ANAS. Si raccomanda prudenza per chi si mette alla guida. Tante le chiamate infatti ai vigili del fuoco da parte di automobilisti che comunque si erano messi in macchina per andare al lavoro già all'alba. Queste sono le immagini che si riferiscono all'ingresso di Campobasso. La politica adesso con il congresso del partito democratico si lavora a una soluzione che possa evitare il ricorso alle primarie con un nome che metta tutti d'accordo. Tra qualche giorno, dicono fonti interne, la soluzione potrebbe anche arrivare. Giovanni Di Tota. Le diplomazie sono al lavoro, sotto traccia, per evitare i radar e dare alla controparte un minimo di vantaggio. I contatti avvengono al cellulare, su WhatsApp e gli incontri, per lo più a orari di aperitivo, ristretti, massimo 3-4 persone. È il Partito Democratico che tenta una soluzione unitaria che consentirebbe di non passare dalle primarie per individuare il prossimo segretario regionale. In Molise è una soluzione possibile, ma tutt'altro che facile. Quando si sono scontrati Stefano Bonaccini e Eli Schlein, il vento soffiava forte alle spalle del presidente della regione Emilia-Romagna, tanto che il Molise, come del resto in quasi tutta Italia, la risposta dell'apparato era stata chiara, 70-30 a vantaggio del superfavorito. Il repentino salto sul carro del presunto vincitore, però, ha provocato parecchie fratture alle ginocchia di chi si è ritrovato bonacciniano convinto, ma è Eli Schlein sulla poltrona di segretaria al Nazareno. Rimettere ordine e trovare una soluzione che accontenti tutti è come vincere una partita a Shanghai. Muovere una perina comporta tutta una serie di veti e controveti. Ognuno dovrà rinunciare a una fetta del proprio orto e metterla a disposizione della causa comune. Ha cominciato il segretario uscente che ha rinunciato alla ricandidatura, ma è evidente che ogni passo indietro vale almeno mezzo passo in avanti. Per trovare la composizione perfetta occorre ancora tempo. I colonnelli dicono che all'inizio della prossima settimana tutte le caselle potrebbero andare a posto, ma come è stato detto e ripetuto in questi giorni, la partita si gioca non solo sul terreno interno al Partito Democratico, ma anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali che il centrosinistra, dopo le ultime batoste, non ha alcuna intenzione di toppare. Fibra ultraveloce anche a Riccia, l'importante novità tecnologica a servizio di circa 5.000 abitanti, ne dà notizia il provider molisano Interfibra. Sentiamo Giuseppe Carriera. La notizia era attesa. Da oggi anche Riccia è collegata a Internet tramite la rete a banda larga di OpenFiber. Si può navigare fino a 2,5 giga di velocità in download e 500 mega in upload. Lo annuncia il provider molisano Interfibra, che tiene particolarmente a cuore le novità tecnologiche a favore dei paesi del Molise. Finalmente circa 750 ragazzi, questa la popolazione entro i 19 anni a Riccia, potranno studiare, navigare e divertirsi, contando su connessioni più veloci anche di decine di volte rispetto al passato. Ma Riccia, per la sua popolazione, circa 5.000 abitanti, di cui 6 ultracentenari, e il suo ruolo di punto di riferimento di una vasta area del fortore a cavallo tra Molise, Puglia e Campania, rappresenta un tassello importante nella eliminazione del digital divide. Nel territorio comunale ci sono scuole superiori, tre filiali bancarie, studi notarieri e l'ufficio del giudice di pace. La rete ultraveloce, sottolinea Interfibra, è un netto vantaggio anche per le decine di attività presenti in paese, non solo nel commercio e nell'artigianato, nella ristorazione, come villaggi turistici e sale ricevimenti, ma anche per i numerosi studi professionali. Il voucher connettività del Ministero dello Sviluppo Economico infatti permette, per le partite IVA, di azzerare il canone di collegamento fino a 24 mesi, Un vantaggio economico che si somma a quello operativo, una velocità di 2.5 giga in download permette di servire agevolmente sia all'utenza delle attività collegate in Wi-Fi, sia a gestire agevolmente un e-commerce, ad esempio. Internet veloce ovunque, per il Molise e da oggi anche per Riccia, non è dunque più uno slogan, ma una tangibile realtà. E adesso l'appello per un cane Nina che si è allontanata da casa, è un barboncino, si chiama Toi, la vedete in questa foto, è scomparsa in via Umbria-Isernia, qualcuno l'ha poi vista in via 24 maggio, senza però riuscire a prenderla, la sua famiglia la sta cercando disperatamente, la famiglia che se ne prende cura, senza però riuscire a trovarla, e chiede aiuto appunto a chiunque avesse segnalazioni o avvistamenti, chiunque l'abbia trovato, ne abbia notizie, può come sempre contattare la nostra redazione. E tutto termina qui il nostro Tg del mattino, adesso la rassegna stampa. Con Giovanni Petrone in regia vediamo come titola il giornale del Molise.it, la Santa Messa per i defunti alla Chiesa del Cimitero a Termoli, poi Campobasso, commemorazione dei defunti, Fiorai, vendite in netto calo a Gerusalemme, una scuola che ricorda i 27 angeli di San Giuliano di Puglia, e il Consiglio regionale, l'assise convocata per il 7 novembre, Sanità e Pizzone secondo gli argomenti, poi tra gli argomenti. Poi l'8.0, a breve l'apertura del cantiere, il comitato è sul piede di guerra. E ancora lupo nel centro urbano di Trivento, il sindaco Pasquale Corallo lancia l'allarme. Incontro tra la direzione generale dell'ASREM e l'ordine dei medici, al centro del dibattito l'assistenza sanitaria regionale. Ci sono poi le altre notizie sul giornale del Molise.it, vi segnaliamo nella sezione editoriali il contributo di Giovanni Mascia, lo storico e scrittore Giovanni Mascia, dal titolo Guido Messore, canto al Molise. C'è stata la presentazione del volume di Guido Messore, canto al Molise, che accoglie i versi e le musiche di 16 canti al Molise, da lui composti su testi dialettali dei poeti molisani, Emilio Spensieri, Nicolino Di Donato, Nicola Iacobacci, Angelo Palladino, Rosa Silvestri e si è tenuta dunque a San Giovanni in Galdo nella sala consigliare del municipio e ad aglietare la serata i zigzaghini diretti da Marco Messore e ovviamente l'iniziativa è stata moderata da Giovanni Mascia che ha voluto onorare la memoria di Nicolino Di Donato a pochi giorni dal primo anniversario della scomparsa e poi c'è questo contributo appunto di Mascia molto dettagliato e accurato nella ricostruzione anche storica oltre che letteraria. Vediamo adesso le notizie che riguardano l'Ansa, l'Ansa Molise, con questa notizia cravate all'Università, Marinella sbarca all'Unimol e poi ancora altre notizie, vento forte, albero secolare cade su strada a Isernia e centrale Enel, Cigelle, Abruzzo Molise ribadisce il no al progetto Pizzone secondo poi ci sono le altre notizie su Ansa, sezione Molise. Vediamo adesso come titola primo piano Molise, il quotidiano del Molise, l'8-0 e il comitato passa al contrattacco di nuovo sul piede di guerra dopo la giudicazione definitiva dei lavori, scempio ambientale senza alcuna ricaduta occupazionale per il territorio, il fronte del no incalza prefetture comuni e disegni e dice bloccare l'opera in autotutela. E poi Campitello, l'exit strategi di funivie, piano di risanamento da 4 milioni e mezzo di euro, ipotizzato il concordato per salvare gli impianti dalla vendita all'asta, Roberti ha preso qualche giorno per capire come reperire le risorse. Poi per le elezioni provinciali, Puchetti, la mia candidatura sollecitata, è nata dal basso domenica. Si vota per la provincia di Campobasso. E poi il decreto penitenziario Abruzzo e Molise accorpati con l'Umbria. Il punto di Luca Colella, pronto soccorso, scrive non solo numeri. E poi le altre notizie dentro. La notizia in questa sezione, Palazzo Daimmo, maratona bilancio che è in commissione a rendiconto 2022. Da Campobasso molestie, percosse, ingiuri e aggressioni alla compagna, scatta il codice rosso. Autorità portuale, patroni griffi, rilancia il sistema adreatico, sempre più competitivo. Concessioni demaniali, il Tarlecce supera il Consiglio di Stato, ossigeno per i balneari, i giudici cambiano orientamento e si rifanno alla Corte Europea. Vediamo adesso le notizie che riguardano lo sport calcio. Campobasso per Golizzi fiducioso, campionato ancora lungo, non è finita. Bastogirardi, Marmorini dopo la prima vittoria, ora serve continuità, dice. E a Termoli, derby in vista per gli adriatici, Vitiello dichiara sarà scontro salvezza. Passiamo adesso a vedere invece come titolano gli altri quotidiani. Vediamo Oppi Molise. All'interno c'è questo articolo di Simone Rocco, accoglienza migranti in Molise, la gestione di alcuni sprare in mano a una copp fortemente legata alla famiglia Sumahoro, il presidente della copp, indagato in Calabria insieme a Mimmo Lucano. e c'è appunto l'approfondimento di Oppi Molise. Vediamo adesso i quotidiani nazionali. Partiamo con la prima pagina della Repubblica. La Repubblica titola così Gaza City, l'assedio, conflitto in Medio Oriente, guerra alle porte della città, Biden invita Blinken a chiedere una pausa, Wagner appoggio aereo a Hezbollah, le Nazioni Unite, Hamas e Israele potrebbero aver compiuto crimini di guerra, Raffa accelera l'esodo, odio antisemita in Italia, manifesti strappati e inni all'olocausto. Poi c'è il maltempo, allarme meteo in Toscana, esondazioni, tre morti. E qui c'è la foto di Firenze con le strade allagate. La telefonata russa a Meloni svela le falle della regia Scurti, è uno degli approfondimenti. E poi riforme trattativa sui mandati del Premier. Il paese è salvato dai governi tecnici e ci sono altri approfondimenti. Vediamo adesso la prima pagina di avvenire, il quotidiano dei Vescovi, Gaza accerchiata, il titolo, l'esercito israeliano penetra nella città e completa l'assedio, Netanyahu non ci fermeremo, escono dalla striscia in 400, il Papa, la guerra sempre una sconfitta, troppe vite stroncate, l'ONU rilancia l'allarme, rischio genocidio, altri attacchi di esbollata a Libano, Gerusalemme risponde. E poi ricerca, investimenti e non tagli per la sanità dei pazienti, non soddisfatte le esigenze di cura. L'intelligenza resti umana, Meloni regole al centro del G7, all'incontro sull'intelligenza artificiale, la ricerca di un'etica e una regolamentazione comune. Vediamo adesso invece come titola il fatto quotidiano, Meloni nei guai tacque 44 giorni sullo scherzo, la trappola a Mantovano ha capito subito che era una burla, e poi Copa si era all'oscuro, se sapeva da subito perché non avvisò il comitato servizi, il comico russo, ma si abbiamo messo giù noi dopo mezz'ora. e ancora altre notizie israele a cerchi a Gaza City e Biden a sedia a Netanyahu. Bolletta elettrica, ora il governo fa il palo alla rapina, scrive ancora il fatto quotidiano. Passiamo adesso a vedere Libero, trappola russa per Giorgia, altro che scherzo Mosca usa la finta telefonata per attaccare il premier, la prova che dietro c'era un piano, intanto l'autore della chiamata va alla sette, getta la maschera, giusto invadere l'Ucraina. Poi lo champagne dentro gli stivali, le spese alcoliche della famiglia suma oro. Minacce a Salvini prima del corteo, domani lega in piazza a Milano. Ora vediamo la prima pagina del manifesto, Gaza City, Gaza città chiusa, l'invasione via terra e al suo apice, dice Israele, i tank tagliano in due la striscia, cerchiano Gaza City, da Netanyahu il no anche a rifornire di benzina i generatori elettrici degli ospedali, campi profughi di nuovo sotto le bombe, 195 morti a Jabalia, l'ONU rischio genocidio. Ci sono poi tutti gli approfondimenti fuori dalla striscia salvi, ma la nostra evacuazione non è una vittoria. Si alzano i venti di guerra, oggi parla il leader di Hezbollah, Nasrallah. E poi i migranti piano Mattei, il decreto c'è ma senza soldi. Dal manifesto passiamo al messaggero, il messaggero anche parla della guerra, scrive sulla guerra in Israele e Palestina, Gaza pressing degli Stati Uniti per la tregua, l'esercito israeliano entra nel capoluogo della striscia, Washington insiste, brevi pause umanitarie per ostaggi palestinesi. E poi asse meloni sunak contro il terrorismo, allarme, lupi solitari, controlli sui migranti, bilaterali al vertice sull'intelligenza artificiale, con il premier inglese. E poi in 6 mila pronti a uscire entro il 2023, emendamento in manovra, Medici scatta la corsa alla pensione, il governo studia una norma anti tagli, esondazioni e allegamenti in Toscana e Veneto, una vittima a Prato, la tempesta flagella, l'Italia. Adesso vediamo come titola invece il secolo, il secolo d'Italia, il costituzionalista Marini, il premierato da stabilità, è il titolo dell'editoriale, poi meloni, intelligenza artificiale, grandi possibilità ed enormi rischi, va governata. Sospensione Schengen, piante e dosi, dice 20 mila controlli, ostaggi in campo alle forze speciali degli Stati Uniti, in azione con l'IDF, dunque la battaglia per la liberazione degli ostaggi nella guerra in Palestina. La Gazzetta dello Sport invece titola così, sorpresona Inter, mercato doppia sfida Juve, torna l'idea Samarzic dopo il caos dell'estate, Marotta prepara anche l'assalto a Zilinski. Poi ancora è una nuova signora, il cambio di strategie, il taglio col passato, ecco altri 48 milioni da Exor, rinnovo Chiesa, l'intesa è vicina. Per quanto riguarda invece Casa Inter, Casa Milan, scusate, Couloulou fuori quattro mesi, il Milan in difesa va sul centrale dell'Arsenal, Kiwior, e poi ancora altro anticipo dell'undicesima giornata, le 20.45, chi vince sogna, Bologna-Lazio per salire in zona Europa, Poi da Cristante a Di Lorenzo, gli insostituibili sempre in campo, Coppa Italia, Sassuolo ok, Toro negato un rigore, netto il Frosinone va. Poi per il tennis, Sinner di notte, no, il match con McDonald, era finito alle 2.37, Yannick lascia Bersi, penso alla salute, dice, tennis a orari impossibili, e dunque polemica, dopo il ritiro del 22enne, Yannick Sinner del nostro campione. Vediamo la stampa, la stampa di Torino, che titola così, Israele accerchia Hamas, la battaglia di Gaza, siti anche qui dunque, la guerra, i soldati nei soborghi, carburanti agli ospedali, Netanyahu, contro i generali, in salvo altri 400 stranieri, la fuga in Italia a 6 anni, dunque la storia di Minerva, poi io infermiera, resto qui con i feriti, ci sono le storie, e poi retroscena idee e analisi sulla guerra, la politica, premirato all'italiana con l'antiribaltone, con la riforma, che cambia la carta, la manovra, medici e statali, il governo è pronto alla retromarcia, sulla taglia pensioni. Passiamo adesso, a vedere come titola invece il sole, 24 ore, fisco arriva il concordato preventivo per gli autonomi e le piccole imprese, consiglio dei ministri oggi il primo via libera al decreto che riscrive le regole dell'accertamento, intesa biennale sui redditi, anche per i forfettari, meno controlli per chi accetta, banche dati connesse, intelligenza artificiale per la lotta all'evasione, borse la Fed innesca il rimbalzo, spread a 185, rendimenti giù con quei mercati, Milano guadagna l'1,77%, il differenziale con il Bund torna a livelli di settembre. Vediamo adesso come titolano i quotidiani abruzzesi. Abruzzesi, il centro, il centro con le notizie che riguardano Pescara e il Pescarese, donna uccisa, arrestato il compagno, femminicidio di Casoli, era fuggito in Inghilterra, preso in casa della figlia, è il titolo, poi Gaza fuga dall'inferno, parla all'Aquilano Intini, ho vissuto l'orrore, dice l'intervista al giovane, poi i negozi, in dieci anni le aperture giù del 55%, i dati di Confesercenti, per quanto riguarda il commercio in crisi, in Abruzzo, poi avevo 86 anni, addio Don Natoli, Pescara piange, lo storico abate di San Cetteo, poi Pescara, area di risulta, minacce e insulti, parcheggiatore non autorizzato, finisce in carcere, droga, arrancitelli, telefoni al setaccio, Pescara, il PM dispone l'esame dei cellulari, dei 14 indagati nel mirino, i contatti di Dell'Orso, guerra dei marchi, gli arrosticini con pecore importate, ora è scontro, nonna Angiolina, compie 108 anni, vi svelo il mio segreto, dice festa per la ultracentenaria originaria di Sante Ufe, Pescaria, poi Pescara, decine di chiamate ai vigili del fuoco, vento forte, pali e alberi caduti, le raffiche di ieri sera hanno causato danni in città e provincia, rifiuti a Pescara, porta a porta, ancora caos e tanti disagi per i cittadini, dal 9 novembre torna il FLA, a Pescara 220 culturali. Vediamo adesso ancora il centro, con le notizie che riguardano Teramo e il Terramano, donna uccisa e arrestato il compagno, femminicidio di Casoli, era fuggito in Inghilterra, preso in casa della figlia, poi Montorio, i progetti della ricostruzione in crescita del 36%, consiglio comunale sul post-sisma, con il commissario Fico, poi ancora tassa turistica, il comune vince il ricorso a Roseto, e Giulianova piange il pizzaiolo Luigi, il 26enne Giallonardi, vittima dell'incidente di Milano, tornava ogni estate nella sua città. L'ex sindaco, mi sospendo dal PD, verso le elezioni a Giulianova, Mastro Mauro, fonda un'associazione e punta le regionali. Calcio di eccellenza Giulianova, il caso Cerasi, il tecnico dalle dimissioni, e per la Serie C il Pineto resta a mani vuote nella trasferta contro l'Olbia. Ancora il centro, ma con le notizie che riguardano invece Chieti, Lanciano e Vasto. Chieti arriva il neo questore, farò incontri con i cittadini, dice Aurelio Montaruli. Poi messi comunali, la finanza sequestra gli atti, Vasto blitz per il concorso. Travolto in strada muore a 60 anni, Lanciano tragedia in serata, la vittima, Ermanno Morgione, camminava sulla variante. E poi ancora teate servizi, atteso il verdetto, Chieti il futuro della municipalizzata, ieri l'ultima chiamata al voto, adesso la decisione dei giudici. Ex allenatore calcio in lutto, Vasto addio a Vecchiotti, aveva 62 anni. Caramanico Angiolina fa 108 anni, vi racconto la mia vita. Ancora il centro, con le notizie che invece riguardano L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Le notizie, Crisi al Comune, ora Petrella, Italia Viva, sostiene Di Pietro, Sulmona e Strappo Politico, Civici al contrattacco, all'Aquila, faccia affronta Forza Italia, basta strumentalizzazioni, dice fuori dal Consiglio. Caro Pedaggi, slitta la protesta, a 24, 2 e a 25, la mobilitazione dei sindaci, indisponibile il piazzale del Ministero, rinvio al 10 novembre. L'Aquila, studentato dell'Azù, in 15 verso lo sfratto, e Avezzano, addio di Brizio, in prima linea per i bambini di Cernobil. Vediamo adesso come titola invece il messaggero, con le notizie che riguardano l'Abruzzo, Michael preso in Inghilterra, a caso l'omicidio di Michele Fiersdown, il compagno aveva subito lasciato l'Italia, la vittima qualche mese fa era tornata in Gran Bretagna, per il matrimonio della figlia. Pescara alloggi Ater, perde la casa popolare dopo l'arresto, sono invalido, dice, restare è un mio diritto. Pescara, re di risulta, dammi soldi o ti brucio il furgone, medicante, medicante, medicante violento, medicante violento, finisce in manette. Poi, tenta di baciare la studentessa, Bidello a giudizio, i presunti abusi nel bagno della scuola, togliti la mascherina, che sei più carina, una delle frasi. Poi, a Vezzano, rapporti con la ex, cade l'accusa di abusi sessuali. Sanità, scoppia il caso Teramo, troppi pazienti, i medici tagliano i tempi delle visite. Pescasseroli, cervi inseguiti nel centro del paese, uccisi dai lupi, il fatto sempre più frequente, i raid dei predatori, che dopo una strage di cani, hanno messo nel mirino animali di maggiore taglia. E poi a Rosticini, Abruzzesi e Guerra sul Marchio, i produttori, no all'uso di carne straniera, ma non tutti sono d'accordo. Cultura di Pietrantonio, presenta il nuovo libro durante il FLA. Poi, Pescara, strada, parco, il mercato diviso in tre parti, Serie C, calcio, recupero, il Pineto cade a Olbia, 1-0, Pescara, Tugniov, dice, periodo buio. E' tutto, termina qui la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento con l'informazione di Telemolise, come sempre alle 14 con il Telegiornale. Arrivederci. Musica 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 Grazie a tutti.